Milano, 8 ottobre 2017 lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Milano. Due spacciatori di nazionale talbanese, incesurati di 29 e 33 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza per detenzione di droga. Ai fini di spaccio, i militari li hanno fermati mentre scaricavano in un box in zona Alambrate a Milano 160 kg di marijuana. Successivamente, nella cantina del 29enne a Legnano, Milano, i carabinieri hanno sequestrato altri 11-5 kg di cannabis. I due uomini sono poi stati accompagnati nel carcere di San Vittore. Monza, altro su MSN. Droga malpensa. Sequestri per 205 kg e 11 arresti. Ferro e potassio nella Black Cocaine. Repubblica TV. Riproduci nuovamente video. IMPOSTAZIONE NON Attivo. HDHQSDLO IMPOSTAZIONE NON